Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati nel nuovo video haul in collaborazione con New Chic Quindi ciao Juan, grazie per questi invii fantastici Allora, try on haul, sarà un try on haul misto Un po' mio e un po' di Lelyson Allora, parto come al solito dicendovi che vi lascio tutti i link dei prodotti che vi mostro Fissati nel primo commento in alto I prodotti arrivano sempre imballati Senza... io finora non ho mai mai avuto problemi Anzi sono molto contenta della serietà appunto di New Chic Perché le cose sono sempre arrivate bene imballate Tutto a posto, sono proprio molto soddisfatta Non ci sono spese di dogana Molto importante perché me lo chiedete anche privatamente sui direct Non ci sono spese di dogana Le cose arrivano entro 10, massimo 10 giorni, 2 settimane Anche nel periodo di festa Quindi basta, non mi dilungo Vi mostro prima i capi e poi ve li faccio vedere indossati Prima di farvi vedere i capi vi faccio vedere due lampade che sono veramente pucciosissime Allora, questa qua ce l'ho già qua aperta Una l'ho voluta aprire anche perché così almeno risparmiavo tempo E l'altra vi volevo far vedere come arriva Quindi vi faccio vedere che le cose arrivano con un ottimo imballo Poi vi farò vedere anche dentro com'è messa Quindi proprio perfetto Questa qui è una lampada da comodino per bambini o anche per adulti o d'arredo C'è una luna e un unicorno È bellissima, è azzurra Guardate qua anche i dettagli con l'occhio, le ciglia Questa gota rosa È molto pucciosa, carina Si accende praticamente da qua Qui c'è un pulsante qui Che basta schiacciarlo Aspettate perché... ok E semplicemente fa... si illumina Ora siamo con la luce quindi non si percepisce molto Però funziona con due batterie, quella bottoncino Che sono già incluse, sono già incluse Vi faccio vedere Qua sotto le potete vedere Insomma sono qua, adesso spengo la luce Comunque è una bella idea Fa una bella luce quando c'è buio appunto per i bambini che vogliono la luce Oppure è da avere sul comodino È molto carina Ne ho presa una rosa e una azzurra Cioè una azzurra e una rosa Adesso vi faccio vedere appunto quella rosa E poi così facendo questo modo Schiacciando questo pulsante si spegne Questo è tipo ombrellino con la lampadina finta Che in realtà funziona appunto con queste batterie Che ora vi faccio vedere Ora si vede meglio Sì, eccole qua Queste due bottoncino Si svita questo A me è piaciuto tantissimo Con questa nuvoletta È fatto proprio benissimo Ora vi faccio vedere L'altra Com'è confezionata Allora mi sono munita di forbici Vado ad aprire il pacco Ok Come potete vedere È tutto avvolto nel polistirolo In modo che nel trasporto Non subisca urti Sfilo il tutto Vedete Che è tutto proprio Molto protetto Apro E vi faccio vedere Come arriva il tutto Ecco qua Perché ho il polistirolo Che si sta rubriciolando Come vedete Arriva tutto così Questo è Confezionato singolarmente È molto molto carina Ecco Non sto qui a montarla Adesso Perché Se no Ci metto troppo tempo Però è identica A quella Blu La vedrete comunque Sulle foto Nelle foto su Instagram Bene Ora passiamo Ai capi Allora La prima cosa Che vi faccio vedere È questo completino Molto carino L'ho preso per Ellison Allora Viene con Questo Pantalone Molto Puccioso Con tutte queste Ciambelle Questi donuts Qui ha questo polsino Molto Molto carino Questo qua Tra l'altro L'ho visto Anche a Chiara Del canale Baby Julia Reborn Che vi invito A seguirla Perché è veramente Bravissima Io adoro i suoi video E questo E questo è sopra È fatto così Questo body Con queste scritte E Non c'entra niente Sinceramente Il L'abbinata Però Appunto Questo si può mettere Anche singolarmente Oppure Così È molto Molto carino Questo qua È la misura 80 Che va bene Appunto Per la Toddler Ellison E Questo completino Qua Ciambella Ve lo lascio Vi scrivo Completino Ciambella Poi Questa Donna Questa Che ti ho Guitro New Chic Questa È una Donna Praticamente È una Gonellina Con Queste Bretelle Che io Trovo Che siano Un amore Veramente È fatta Così Trovo Che siano Proprio Un amore È una Gonellina Fatta In questo Modo È abbastanza Lunghetta Questi Bottoni Non Mi piacciono Particolarmente Infatti Penso Che Li toglierò E bisogna Vedere Se va Bene O bisogna Farci L'orlo Insomma Dopo La proviamo Vediamo Come sta Su Su Ellison Poi Sempre Per Ellison Ho preso Questi Stivaletti No Ditemi voi Se non sono Un amore Questi Stivaletti Questo qua È la Misura 18 18 Preso Sono Un amore Ci sono In vari Colori Ci sono Rossi Mi sembra Mi sembra Che ci sono Di due Colorazioni Queste E rosse E forse Anche un altro Colore Ma non Ricordo Sono carinissimi Sono stivali Con le frange E sono Sono davvero Sfiziosissimi Dietro Si aprono Con il velcro Sono Super Super Imbottite Così Tengono il piedino Caldo Ah no Aspettate Hanno anche La carta Che devo Togliere La Suoletta Come vedete Che carina Che è Removibile E anche Questa È bella Peluche Appunto Per tenere Il piedino Al caldo Dopo Ve le farò Invedere Indossate Da Da Ellison Ci sono In varie misure Io ho preso La 18 Perché è Quella Che va Bene Per La La mia Bambola Ecco Qua Sono Pugciosissime Poi Per me Invece Ho preso Questi stivali Nel solito Sacchetto Questo qua Questi qui Veramente Allora Ero indecisa Se prenderli Neri O In questo colore Che ho preso Poi alla fine Ho preso Questo Ma Non è scudo Che li prenderò Anche neri Allora Ovviamente Questi qua Questi sono Molto belli Io Ho sempre Cercato Un paio Di stivali Ho sempre Cercato Un paio Di stivali Con questi Con queste frange Queste cose Sono veramente Molto Molto Carini Questo suono Qua Li adoro Sono comodi Li ho già provati Poi vi farò vedere Indossati E Mi piacciono Tanto Ci sono neri Poi c'è anche un colore Be Beggiolino Grigio Non mi ricordo Comunque vi lascio Il link E E E li potete vedere Sono carinissimi Io questi qua li adoro Ovviamente ho preso il 43 Perché vi ricordo che Come taglia di scarpe Bisogna prendere Uno o due numeri in più Io Prendo sempre il 43 Così non sbaglio Però io porto il 41 Solitamente Di tutte le scarpe Però Su New Chic Prendo sempre il 43 Questo ve lo dico sempre Ve lo ripeto Così non sbagliate E comunque ci sono le tabelle Quindi se vi attenete Alle tabelle Non potete sbagliare Insomma Sono fatte bene Qui hanno Questa cerniera Aspettate Dentro Sono belli caldi Ma si possono usare Sempre in primavera Che in autunno E li trovo belli Dentro sono fatti così La suola non si muove E sono proprio Sono belli Sono fatti bene Le cuciture Sono proprio belle Non c'è nulla da dire Proprio Vraiment La suola è così Fatta bene Ovviamente si può anche suolare Però È già fatta bene Questo lo vedete È un pochettino sporco Perché Ma non è sporco L'ho indossato Per provare Appunto E niente Mi piace tantissimo E Ho adorato Veramente Tanto 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 Bene Ora vi faccio vedere Le cose Indossate Ecco qua Con Guardate che carino Il piedino Sembra vero È adorabile Ecco qui Con i pantaloni E il body Che devo dire Che li stanno Veramente bene È un po' Largo di spalle Però Va bene Insomma Questo è un body Così Che magari si mette Con una maglia sotto Con un colletto E si sistema tutto Questo Arriva anche fino in alto Però Vabbè L'ho abbassato Per farvi vedere La scritta È molto Molto carino E Non so Mi piace molto Proprio Puccioso Ecco Qui le scarpine Indossate Sono veramente Carine Sono Pucciose Sfiziose Sono veramente Belle Mi piacciono Troppo Ecco Così vi faccio vedere Anche meglio Come ha Sto il flash Vedete meglio I colori Di questo E quanto Brilla Questa scritta Ma quanto è bella Ellison È bellissima Sono pucciosi Tenere Fanno molto Western Sono carine Poi sono belle Perché queste qua Queste poi sono carine Prattiche Perché si possono anche Lavare il lavatrice E di questo colore Con i Questo qua Questo colore Con i jeans Secondo me Sta veramente Un Amore Davvero Sta un amore Adesso vabbè Ci sono i pelucchi Per l'imbottitura Però adesso Poi le metto In lavatrice Vi faccio vedere Una volta che poi Dopo le ho messo in lavatrice Come vengono Ma Adoro Veramente Sono troppo Pucciose Allora Guardate che carina Allora Come vi avevo detto Ho tolto i bottoni Come prevedevo È molto Molto Lunga Come avevo previsto È È molto Più lunga Mi piace tantissimo Il particolare Della manica Che fa Fa così Proprio Carinissima Questo è da mettere Ovviamente Con una maglia Tintanita sotto O nera O rossa Col colletto Peter Pan Magari Mi piace troppo Sì qua Si è risvoltato A proprio Sistemo È molto carina Proprio Mi piace tanto Questa cosa I bottoni Li ho tolti Perché secondo me Non c'entravano nulla E Voglio portarla La porto A mia zia La porto Da mia zia E me la faccio Sistemare D'orlo Perché lei Appunto Sa cucire Alla macchina Va a cucire E mi piace Tantissimo È veramente Sfiziosissimo Questo completo Lo adoro Tanto Tanto Magari Ci faccio mettere Un fiocchetto Qua Con questo tessuto Che si ricaverà Ci faccio fare Un fiocchetto Non so Ditemi voi Se secondo voi Di questo tessuto Ci sta bene Un fiocchetto Qua O lasciarlo così È molto carina Davvero È adorabile Questa Donna Salopette Bellissima Li amo Questi stivali Sono stupendi Guardate Sono Super Con queste cose No Sono troppo belli Li devo comprare Anche Devo comprarli Anche nere Assolutamente Sono troppo belle Poi vanno bene Non stringono in punta Belle Le adoro Bellissime Sono veramente belli Questi stivali Bene Spero che il video Vi sia piaciuto Che vi abbia tenuto In compagnia Grazie a tutti quanti Mi raccomando Se vi è piaciuto il video Mettete mi piace Se non siete iscritti Iscrivetevi Se non vi vengo a prendere a casa E iscrivetevi anche al canale Di coppia Davide Chiara Channel E al canale Chiara Alessandro ASMR Un bacione Grazie ancora Juan Juan E vi ricordo Che vi lascio tutti i link Fissati nel primo commento In alto Stasera Uscirà un vlog Il vlog Di quando abbiamo fatto Insomma Un sacco di cose Quindi un vlog pazzo Quindi non perdetevelo E niente Ci vediamo stasera Con il vlog Bacione Ciao Buona domenica a tutti